Ma guardate, io sul MES ho sempre detto le cose molto chiaramente. Io per quanto mi riguarda credo che oggi lo strumento sia il Recovery Fund, ok? L'ho sempre detto, non sono mai stato uno di quelli che ha detto MES, morte. Io dico che oggi c'è il Recovery Fund, abbiamo un ingente finanziamento che arriva dall'Unione, io sono anche Presidente della Commissione dei Politi Europei, quindi anche in linea concettuale il fatto che il MES sia un trattato intergovernativo e non sia nell'alveo delle istituzioni europee, insomma, preferisco molto di più il Recovery Fund che è una rivoluzione, anche per la punta politica dell'Unione. Quindi definiamo tutti i progetti del Recovery Fund, vediamo tutti i ministeri quanti progetti hanno e soprattutto quanto costano i progetti che stanno portando avanti, definiamo tutto il pacchetto, andiamo in Europa, facciamo la trattativa e vediamo qual è la soluzione. Se poi non ci bastano e abbiamo bisogno di altro, discutiamone, però dire MES sì, MES no, così è veramente molto riduttivo. Oggi c'è la Recovery Fund che è una cosa incredibile, nuova, che dobbiamo sfruttare fino all'ultimo centesimo stando nei tempi e soprattutto spendendoli bene, perché questo è fondamentale, spendendoli bene e nei tempi, questo è fondamentale.